In te la galleria saranno appuntamenti tutto artista, empresaria, agenti, diva, macchiettista, fanno un mercato, una agenzia. Ognuno pensa di fare una compagnia e senza interrogarsi fanno il listo. E più altrimenti sono pronta e sono zifo. O repertoria, faccia roba mia. Difatti, ognuno tena vinto trenta commedie proprie, drammi, sceneggiati. Ed in te lo finale ti presenta un amante che si spara per passione. E con colpa tempia, immaginate, canto tutte e tre parte una canzone. Sono tipo a studiare, chi va, chi viene. Io spesso per sentire sto parecchio. Dicevo Pulicinella e faccio picchia, ma non arriva a fare l'arte. E chi ti tene? Oggi ho pittore corretto con Viena. Con l'acqua e a preta pomme cintosicchia, non mangio scaloppini o pannolicchia, mangio la telepasta sera, tiena. Pulicinella e picchia, che non avevamo ridotto l'opera che facciamo bene. Sì, ma passate molto, vecchia, sì. Quest'arte ci ha mandato a mezza via. E non buttando a scicchi un coppia a scena, noi facciamo i lazzeri in dalla galleria. Nata sentenza... E' l'arte che è farnuta. Oggi il teatro non cammina più. Con cinema e che stella Roddy Wood, alla fine nostra è bella che è venuta. Mua folla, corto. Corre tutta l'arte ha avuto l'incontro tra Purchiano e Giuventù. E noi con Marrinaldo e Ferrausta ammastipati. E la cassa si è farnuta. Qui, a tutta parte Rosico ho la mente. E ora sono federali e si fanno... Ma quando abbiamo questi miglioramenti, no? Ma capisci o no che paga il doppio? E chi ti dà? Io a spazio se ho prima e a spazio sono buoni. E sono venuto appena a Marcianese. E poi c'è questa colletta e picchia per Don Antonio. A spazio a sette mesi. E sono venuto appena a Marcianese. E fai la colletta un'altra. E la fai per te. Intanto, non puoi sentire cosa costa. Signore, signore tu a spazio, fate la carità. Bello, tu la veri fai? Ah, già faceva posto. E quanto ti ha buscato? Oh, dica a voi. Quanta? 54 sordi. E fai già va. Tu sei più posto dentro i miei sannui. Ha andato a parte. Ha tornato l'impresario in un paese nato so che gente. E a fianco a questo caffone c'è la gente che cura gli aggettivi del frasario. E dice, beh beh, qui abbiamo il calendario. Ehi, potremmo fare il 5 e il 6 venire. Poi sarebbe sabato e domenica corrente. Abbiamo un repertorio molto avanti. Quanta persone siete? Più di venti. Quanto pigliate? Beh, recita è staccata, volendola fare con voi e lamenti per le due sere. Niente è troppo assai. Tutti capri e se è logico sono mossa. Per questo non mi mettermi in programma. Non posso manco rompere la mia gamba giustificata. Mi sono rotta la coscia e non mi portasse il soffo che piccoce. e non mi portasse il soffo che non mi portasse la mia gamba giustificata. chi sono? Chi sono? Chi sono? Chi sono? Non c'è una guardia con la ferra. Non puoi cacciare solo in ordine da un serra per tre o quattro anni e prendere in strada. Si è andata a questa parte quanta strada. Sono due scendosi in gara pugilistica. E viene una cartina a far capire. Un appiccico continuo, all'assa e prende. E poi si dice la famiglia artistica. Artistica può darsi, ma famiglia. Perciò chi trassa in dalla galleria, prende i tagli di panno con la gente ognuno con una forbice tagliando, la pari trassa in dalla sartoria. Se avessi visto Dante, avessi fatto un giro a parte e condannato a roscarlo. Perché? Questo rifatto è roscarlo. Sono rientri di tutta l'arte e posso mangiare che non puoi mangiare. che si può mangiare. Se avessi fatto che non puoi mangiare. Quindi...